Cari amici di Acme Sicurezza, ci troviamo al pastificio al re del tortellino della famiglia Vignotti, siamo in compagnia di Marianna, ben trovata Marianna. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Grazie a te in questo bellissimo negozio, 1980, l'anno di fondazione, quando Papa Carlo decise di aprire appunto. E mamma Luciana aggiungerei, perché hanno fatto le cose in due. Come giusto che sia, come nelle migliori famiglie, una gestione proprio familiare, siete tre figli e tu sei qui in bottega per mandare avanti questa bellissima tradizione. Certo, ci occupiamo della produzione principalmente del tortellino di carne, ma abbiamo svariati e svariati gusti di tortelli, facciamo anche della gastronomia, super buona, potete trovare anche migliori piatti veneti della tradizione, come il baccalà alla vicentina, come le trippe, cose, abbiamo anche dei buonissimi dolci, la torta delle rose ed alcuni dolci proprio tradizionali del carnevale. E niente, vi aspettiamo qui, adesso è Natale, ci sono le feste, perciò siamo qua per accontentare le più svariate richieste. E niente, eccoci qui. E se qualcuno volesse venire da voi, c'è un bellissimo sito, c'è un numero di telefono per potervi contattare e fare anche delle prenotazioni. Certo che sì, il sito è www.arredeltortellino.it, mentre per telefono ci potete trovare allo 045 79 50 523. Da poco tempo abbiamo aperto anche un piccolo ristorantino che gestiamo sempre a livello familiare, vi lascio il numero anche di quello, è lo 045 79 52 415. E lì potete sicuramente trovare i ragazzi che vi spiegheranno le migliori le migliori opportunità che avete. Eccoci qua, vi aspettiamo, insomma. Tortellino di carne, ovviamente quella è la base da cui nata questa bellissima attività, però ci sono tantissime altre tipologie, ce ne puoi dire qualcuna? Certo che sì, abbiamo abbinato i formaggi della tradizione veneta alle verdure che troviamo a chilometro zero qua dei nostri agricoltori. Possiamo trovare, vi faccio degli esempi, il radicchio rosso di Verona con il monte veronese fresco, possiamo trovare la cipolla rossa abbinata invece al monte veronese d'allevo, possiamo trovare anche il sedano di Verona, la zucca, la zucca che va moltissimo, è un tortello classico anche quello della tradizione, con amaretti e mostarda all'interno del ripieno, perciò un po' più dolce di quelli tradizionali di carne, però sfiziosissimi ve lo assicuro. Alimentazione legata alla sicurezza, quanto è importante per voi l'aspetto della sicurezza nella vostra attività e perché avete deciso di affidarvi ad Acme Sicurezza di Andrea Piccinini? Allora, Andrea lo conosco da una vita, è un amico, però la sicurezza è molto molto importante per noi, loro sono i numeri uno nella sicurezza, perciò ci siamo affidati ad occhi chiusi proprio ad Acme Sicurezza, proprio per questo. Che dire, grazie Mariana, complimenti a te e alla tua famiglia e buone feste. Grazie a voi, buone feste e buon Natale a tutti.